Oggi 20 marzo partecipiamo a questo bellissimo evento organizzato dal consorzio Sostenibilità e Innovazione. La nostra filiera è una filiera che vive di innovazione quotidianamente e i nostri associati, gli associati di ogni rima accettano la sfida dell'innovazione. Grazie alle politiche industriali di Industria 4.0 abbiamo portato innovazione proprio dal termine latino novus nelle nostre aziende, abbiamo portato automazione e digitalizzazione. Siamo pronti ad accettare le sfide che il mercato internazionale ci richiede ma queste sfide però vanno anche sostenute e ci vanno anche date dei supporti per superare tutte quelle barriere non tecnologiche che oggi frenano un po' il nostro sviluppo, quali ad esempio la eccessiva burocrazia e quindi noi chiediamo un'armonizzazione e una semplificazione normativa e poi chiediamo anche di dare una valorizzazione a tutti gli scarti non riciclabili che escono dalle nostre lavorazioni.